Mi chiamo Valentina e sono filmmaker. Il mio interesse per il linguaggio ed i visivi è iniziato perché ero molto piccola. La mia prima volta su un set cinematografico è stato grazie a Tiziano Crotti, che era un professore dell'Almed, che ci portò sul set di Luca Lucini. Mi ricordo che per me fu un'emozione grandissima, tant'è che scoppiai in lacrime perché per me era un sogno che si realizzava. La cosa più importante che mi ha insegnato il Master è stata la grande differenza tra una produzione fiction e una produzione documentaristica. Per girare un documentario bisognava inserirsi in contesti dove eri considerato fondamentalmente uno sconosciuto e dovevi cercare di inserirti nell'ambiente nel quale giravi per poter cogliere la verità di quello che accadeva. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.